Musica Che lo scontro per le prossime politiche anche su Foggia sia un testa a testa fra Movimento 5 Stelle e Forza Italia è un dato che emerge dalle dichiarazioni di guerra tra Di Maio e Di Donna sulle candidature il leader pentastellato non ha fatto mancare la sua stoccata alla familistica individuazione dei profili tra gli azzurri Il centro-destra candida la cognata del sindaco stiamo parlando di due modi di gestire le candidature totalmente diverse io chiedo ai cittadini prima di tutto di fermare le parentopoli e di votare per chi è una persona di questo territorio A setto giro la replica di Di Donna come al solito Di Maio e di Movimento 5 Stelle non si smentiscono mai ogni volta che si trovano a corto di argomenti politici provano a buttarla in caciara non accetterò le loro provocazioni e le loro basse insinuazioni dice Di Donna e con i miei competi vorrei discutere di politica e non di stati di famiglia A Di Maio che blatirà di presunte parentopoli voglio ricordare che alle ultime elezioni regionali ho personalmente totalizzato 7.448 voti in capitanata risultando il candidato più votato nella città di Foggia la candidata del suo movimento Rosa Barone invece si è fermata a 5.079 voti e attacca la forzista e la campagna elettorale inizia a farsi rovente La polemica tra Luigi Di Maio e Michela Di Donna è circoscritta in ambito locale destinata a scemare nel giro di poche ore ma riapre una questione che marginale non è nel panorama attuale le modalità di selezione della classe dirigente Con la progressiva implosione e demonizzazione dei partiti tradizionali e la diffidenza verso i professionisti della politica è saltata infatti la tradizionale gavetta che partiva dalle sezioni e dalle vere e proprie scuole di formazione Le formule del marketing applicate alla politica, gli slogan preferiti ai programmi il ruolo sempre più dominante della televisione hanno poi fatto il resto Saltati i riferimenti tradizionali a valori e appartenenze si è andati alla ricerca di figure elettoralmente spendibili con il nome del leader accanto al simbolo e sulla discrezionalità del leader a livello nazionale periferico è ricaduta la scelta dei candidati al Parlamento per lo più legati a rapporti stretti e veri e propri clan alla dote potenziale di voti che portano con sé da cui l'invasione di medici e avvocati per esempio a una catena fiduciaria che comunque non è bastata per registrare un numero record di cambi di casacca nell'ultima travagliata legislatura il Movimento 5 Stelle, il primo a intuire e sfruttare le potenzialità del web ha introdotto una nuova modalità di selezione aperta ai semplici scritti di una piattaforma e così il candidato presidente del Consiglio Luigi Di Maio appunto da aspirante parlamentare alla ricerca di riconferma nel suo collegio di riferimento dove hanno votato complessivamente 2.040 persone online ha raccolto 490 preferenze appena alle parlamentarie e il suo curriculum prima dell'esperienza in Parlamento è piuttosto evanescente siamo quindi sicuri che questo sia il modello migliore da seguire e il caso Raggi Marra a Roma ha mostrato quanto il Movimento sia scalabile all'interno quanto la regola dell'uno vale uno sia un limite se ci si deve confrontare con la pubblica amministrazione e con esperienze di governo il problema è quindi complesso e riguarda tutte le formazioni politiche e schieramenti affrontarlo senza approfittare del vuoto generalizzato per favorire carriere personali dovrebbe essere una priorità per coinvolgere e responsabilizzare i migliori e formare quindi una classe dirigente finalmente all'altezza delle sfide e delle emergenze una frase infelice seppur estrapolata dal gergo politico sta inframmando il dibattito elettorale permetta l'inaspettata virata a destra allontanandosi dal progetto civico di Emiliano permette alla sua maggioranza di ottenere il duplice risultato su Manfredonia è addetto l'altro risultato non disprezzabile di trombare Iaia Calvio numero 2 alla Camera dopo Michele Bordo la frase è addestato sconcerto e stupore per la diretta interessata si tratta di parole triviali e gravi sempre ma soprattutto quando ci sono le donne di mezzo e soprattutto quando a pronunciarle un sindaco uno che dovrebbe essere esempio per i suoi concittadini ma evidentemente ha difficoltà ad esserlo mi dispiace per lui e per la sua triste cifra politica attacca Calvio ancora più se penso che si sta organizzando per fare una campagna elettorale tutta a danno di Cerignola e del nostro territorio a difendere la Calvio anche il segretario regionale del PD Marco Lacarra il clima elettorale non fa bene al sindaco Mette dopo averci stupito con un posto a sorpresa in cui annuncia sui social la sua decisione di sostenere alla Camera e al Senato due esponenti di Forza Italia voltando così le spalle alla coalizione del PD e dei civici che pure aveva sostenuto in un passato recente prosegue su questa linea sproloquando in modo volgare nei confronti di una candidata del Partito Democratico osserva Lacarra meglio degli altri dovrebbe conoscere il rispetto dei ruoli e di quegli aspetti formali che poi sono sostanziali di merito auspico che il sindaco di Cerignola faccia al più presto ammenda e porga quanto prima scuse formali alla candidata del PD Calvio ha detto Lacarra Mai più fascismi affoggia è l'appello che i sindacati, associazioni, movimenti e partiti politici stanno portando avanti dopo il proliferare di manifestazioni neofasciste, neonaziste e xenofobe che stanno affollando le cronache del paese il cartello della resistenza composto da CGL, ARCI, ACLI, AMPI a cui hanno aderito anche movimenti studenteschi sta lavorando affinché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista in ogni sua articolazione impegnandosi in particolare sul terreno della formazione della memoria della conoscenza e dell'attuazione della Costituzione e da Palazzo Dogana dove si è tenuta la presentazione delle iniziative la resistenza ai nuovi fascismi si sposterà in piazza Cesare Battisti dove le organizzazioni si presenteranno con dei banchetti informativi l'obiettivo è dare concreto seguito alla dodicesima disposizione della Costituzione e vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista Anche a Foggia ci sono stati atti qualcuno li ha definiti vandalici rispetto ad alcune sedi di associazioni antifasciste piuttosto che quello che abbiamo visto diversi mesi fa una bella mattina comparire anche sui muri davanti ai cancelli di un istituto scolastico delle scritte fasciste e razziste ci siamo preoccupati ci siamo allarmati rispetto a questo insorgere a questo crescendo anche nella città di Foggia e abbiamo fatto rete abbiamo creato un coordinamento già da tempo e non solo rispetto agli ultimi episodi avvenuti a livello nazionale non per ultimi quelli di macerata Onorevole mi consenta No, io non sono onorevole né lo diventerò perché non sono candidata Onorevole mi consenta è il titolo della trasmissione di un'altra trasmissione elettorale di Teleblu che parte questa sera e che andrà in onda alle 21 e poi in replica il sabato alle 14.30 dopo le edizioni del telegiornale è un contenitore tradizionale come per Teleblu che ha sempre mantenuto l'impegno di raccontare le campagne elettorali aprendo i suoi spazi a tutti i candidati e per darvi un assaggio Luca ti faccio vedere un pezzetto te lo concedo della sigla Onorevole mi consenta Grazie a tutti Dunque Antonella questa sera appuntamento con la prima puntata Sì, questa sera alle 21 ci saranno i candidati del collegio Foggia Camera e vedremo come andrà sui temi naturalmente di politica nazionale declinati rispetto alle priorità del nostro territorio Teleblu vi aspetta questa sera alle 21 Onorevole mi consenta Comandante, sei mesi fa la mattanza di San Marco Illamis un vero attacco allo Stato però lo Stato in questi mesi ha saputo reagire Sì, beh più che un attacco allo Stato è stata una manifestazione di tutte quelle che è gli scontri quelli che sono gli scontri all'interno dei gruppi criminali e tra i gruppi criminali di tipo mafioso che operano sul territorio della Capitanata uno scontro che ha ammietuto delle vittime anche innocenti l'ennesima conferma che il fenomeno criminale sta tentando un'evoluzione dico tentando perché l'azione di contrasto comunque c'è è forte è stata ancora più potenziata grazie al supporto che il Ministero dell'Interno che il Comando Generale e che comunque è stato dato dagli organi centrali che hanno immediatamente colto la necessità di avere ulteriori strumenti operativi sul territorio l'arma dei Carabinieri in questi mesi ha allargato ulteriormente la potenzialità di questo Comando Provinciale e non solo perché anche il Rosso è il nucleo anticrimine già istituito prima dei fatti di San Marco in Lamis ma poi è stato rinforzato e raddoppiato insomma uno strumento operativo molto forte sul territorio i cacciatori gli squadroni portati cacciatori che attualmente operano già qui sul Gargano con insomma delle unità robuste e che probabilmente stiamo già valutando di rendere stabili sul territorio Comandante da quel 9 agosto è cambiato in qualche modo la lotta alla criminalità organizzata? Beh è cambiata si è irrobustita si è sviluppata ulteriormente la stiamo mettendo a sistema noi e le altre forze di polizia in modo da fare un'aggressione al fenomeno studiata che non vada a sovrapporsi ma che vada a colpire le organizzazioni in tutte le sue manifestazioni da quella economica a quelle più aderenti al territorio come il reclutamento delle nuove leve e quindi tutto quello che stiamo facendo in questo periodo dal controllo del territorio che viene potenziato all'attività di contrasto a quella che a volte sbagliando viene chiamata microcriminalità diciamo la criminalità diffusa agli atti predatori al contrasto al caporalato allo sviluppo di mappature in quella che è la foresta umbra quindi in quelle zone che prima non venivano esplorate all'aggressione del patrimonio sono stati fatti dei sequestri importanti anche a clan sia a clan riconosciuti come mafiosi che a gruppi criminali strutturati insomma tutta un'attività che andandosi poi a sedimentare strato su strato va a colpire il fenomeno criminale nella sua interezza sul fronte delle indagini a che punto sono? le indagini vanno avanti è ovvio che è una domanda a cui io non posso rispondere per chiari motivi però sono indagini che stanno andando avanti e come vi dicevo prima in una maniera ben organizzata e strutturata gli agenti di polizia hanno sottoposto agli arresti domiciliari uno 46enne di Foggia che del 23 marzo era sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare dell'ex coniuge di 53 anni l'uomo è accusato di maltrattamento e minacce nei confronti della moglie e delle figlie minori il 23 marzo dello scorso anno la polizia era intervenuta nell'abitazione dell'uomo dopo una richiesta d'aiuto da parte dei familiari alla presenza degli agenti in divisa l'uomo aveva continuato a minacciare di morte la moglie e le figlie inoltre la figlia maggiorenne presentava una vistosa ferita sull'occhio sinistro successivamente al suo allontanamento l'uomo in tre occasioni avrebbe messo a segno ulteriori atteggiamenti intimidatori minacciandole anche di morte e in particolare avrebbe minacciato di tagliare la testa alle ex moglie se avesse continuato a far salire gente stranea nella propria abitazione e se non avesse provveduto a ritirare le denunce querele esporte nei suoi confronti a gennaio scorso inoltre l'uomo si sarebbe avvicinato alla donna ad un suo amico minacciandola di morte e ribadendo ripetutamente che le avrebbe tagliato la testa e che le avrebbe fatta camminare su una sedia a rotelle che si sarebbe appostato sempre sotto casa per controllarla una legge completamente disattesa la 194 del 78 con la quale in Italia 40 anni fa si riconobbe alla donna il diritto ad interrompere gratuitamente e nelle strutture pubbliche la gravidanza indesiderata manca nella regione Puglia la dovuta attenzione ad una legge di stato che come tale deve essere attuata affoggia la situazione insostenibile non c'è un numero adeguato di consultori previsti in base alla popolazione della città inoltre gli ospedali riuniti rimarranno senza medici non obiettori al momento ce ne sono soltanto due che presto andranno in pensione e il diritto ad abortire sarà totalmente negato è la denuncia partita dal coordinamento donne in rete di Foggia Ucronia donne della CGL UIL AGEDO associazione Maria Teresa di Lascia impegno donna abbiamo scritto più volte alla regione ha detto al TG Blu Maria Teresa Santelli del comitato promotore del coordinamento della legge ci hanno risposto in maniera vaga dicendoci che la situazione in Puglia non si discossa da quella di altre regioni italiane ma se si pensa che affoggia l'86% di medici e obiettori si può comprendere come la legge sia del tutto disattesa non è assolutamente giusto che una donna che intende sottoporsi a una interruzione di gravidanza debba ricorrere al privato anche per la somministrazione della pillola RU486 c'è un continuo ostacolare i ginecologi che ne fanno richiesta inoltre la pillola introdotta soltanto recentemente negli ospedali riuniti della città sembrava offrire alle donne la libertà di scelta tra interruzione chirurgica e farmacologica ma di fatto si è dimostrata per i tempi dilatati che comporta un ulteriore aumento di carico di lavoro per i due ginecologi non obiettori presenti nei due reparti della struttura ospedaliera abbiamo chiesto un incontro ufficiale al governatore Emiliano addetto alla Santelli per affrontare le problematiche e condividere insieme le possibili soluzioni ma non abbiamo ricevuto risposta la nostra priorità rimane ovviamente la prevenzione ma non esiste un'adeguata informazione anche in questo i consultori non svolgono la funzione prevista dalla legge grazie a tutti grazie a tutti